Allora, insieme a vale la pena di te, per te la mostre e il terzo di tutti. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Il Signore sia a che quello che si mette al tuo spirito. Da nel vero e se nel vero. ola in teo il tuo Signore. In quel tempo Gesù che sempre dice, quando vede il tempo che ci ha detto, ci ha dato un esercizio, allora sapete che era stata la stazione di Gesù? Allora coloro che stavano avanti in un'altra idea, dicano a versare l'uomo, coloro che sono venuto in una città, se ne ha una mano, e per i riscaldi di una mano, non sono venuti in una città. Quello infatti sarà una giornata evidente, affinché tutto ciò che sia giusto su questo mondo. In quei giorni, il guai adeguato di Gesù è anche perché è andata, perché lui sarà il grande paragrafo nel paese, e lui è il grande paragrafo nel paese, e lui è il grande paragrafo del suo corpo. Cadranno la fattissata e sarà un accordo di due giorni e di generazione. Gerusalemme sarà partecipata dai italiani, i campi e i bambini, 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 i bambini. Vi saranno segni dei sogni nella luna e nelle stelle, e sulla terra rinnoce un po' con un'ansia per il fattore del mare e dei frutti, mentre i due uomini e i bambini o hanno un po' da poco tra e tra la testa di ciò che dovranno avere la città. Le potenze dei scegli e i bambini saranno su un modo, allora le qualità dell'uomo è che sono avute con grande potenza in tempo. Quando cominceranno a vedere queste cose, rispondetevi e alzatevi in tempo, perché la vostra ammiglia è sempre riuscita. Parola a tutti. Glorie a te. Grazie.